E ritiro. Mi puoi passare l'altro? Grazie. Poi andiamo avanti con un'altra bellissima proposta, sempre in argento. Parliamo di un centro tavola, molto importante perché comunque ha delle dimensioni davvero notevoli. Eccole qui, è l'Arge numero 2. Arge numero 2. Guardate qui, tutta la lavorazione stondata del bordo che si va a riproporre per tutta la struttura di questo centro tavola. Davvero, davvero meraviglioso. 32 centimetri per 25 con una profondità di 12 centimetri. Siamo amiche a 950 grammi di argento, ma guardate che oggetto, guardate che meraviglia, è meraviglioso. Sempre di forma ovale con questa lavorazione. Come nuovo amiche, a prezzi di fusione, non si acquista argenteria a 500 euro al chilo. Non è possibile. Questo è un oggetto che se si va ad acquistare, 1200, 1300, questi sono i prezzi. Poi lo sistemiamo qui. Vado, mi passeresti anche il... grazie. Se no me li avvicini un pochettino così. Allora, attenzione. Arge numero 3. Qui abbiamo, lo possiamo definire tranquillamente, un piatto. Vediamo le misure, Max. 24 centimetri il diametro. E andiamo avanti con la brocchettina, il vaso. Ecco qui, grazie. Allora, qui parliamo di un vaso molto molto carino, molto particolare perché oltre ad avere l'argento, che è sicuramente una qualità per la casa eccezionale, perché va a dare un valore in più, un tocco di classe in più a quello che è il vostro arredamento. Qui abbiamo anche, diciamo che è anche un gioiello, perché abbiamo tutti questi lapis posizionati sulla centrale di questo vaso. Un oggetto davvero unico. È l'arge numero 4. Parliamo di 32 centimetri di altezza, parliamo di un diametro, questo fiore, perché è quasi un fiore come disegno, di 16 centimetri di diametro. Guardate che lavorazione, è tutto, tutto lavorato per tutta la struttura. Allora, attenzione, qui siamo a 750, vi fa vedere nel dettaglio, vedete le lavorazioni molto particolari, molto di classe. La richiesta per questo, amiche, è di 790 euro. Guardate che meraviglia, tutti questi lapislazzuli incastonati all'interno di questa struttura in argento. Argento 800 per 750 grammi. Ebbè, davvero davvero un degusto. Qui ci vuole subito una conferma. Alla prima telefonata si porta a casa, questo è molto bello e ripeto, abbiamo 4 lapislazzuli incastonati sulla struttura di taglio ovale. Guardate che meraviglia. Alla prima telefonata 500 euro si conferma. Qui, amiche, oltre all'argento state acquistando anche delle gemme naturali. Quindi un tocco di classe, un valore in più ad un oggetto che è, mi raccomando, in velocità, perché sono gioielli da non perdere. Ovviamente gioielli per la casa, ma sempre gioielli. Si parla di argento, si parla di cose molto, molto di pregio e raffinate. Bellissimo. Guardate che oggetto, guardate che meraviglia. Oltretutto di grandi dimensioni, davvero un oggetto molto, molto particolare. Tutte le lavorazioni, vedete, hanno tutti i fiorellini anche lavorati, che accompagnano tutta la struttura di questo meraviglioso vaso. Eccolo qui. Alla prima telefonata, attenzione, sconto, davvero uno sconto. Vedete le punzonature, Max, bravo, fammi un bel primo piano, dell'argento 800. Sono prezzi, amiche, immaginiamo andare a acquistare un gioiello come questo da un argentiere oppure da un gioielliere. Proviamo ad immaginare che cosa ci chiede. 380 euro e si conferma. 380 euro. Voglio subito una conferma perché è davvero in super, super sconto. Parliamo comunque di un peso notevole, 750 grammi. È davvero carino. Ripeto, amiche, non si sbaglia con l'argento come non si sbaglia con l'oro. Perché sapete bene che anche l'argento, qualora voi vi stancaste, potete tranquillamente andare in qualsiasi gioielleria, in qualsiasi compro oro e vendere l'argento e subito monetizzare il vostro denaro. Quindi fate comunque un investimento, lo andate ad utilizzare in casa vostra, ve lo sfruttate finché ne avete voglia, quando vi stancate andate a cambiarlo con qualsiasi altro oggetto. Ritiriamo, grazie. Ecco qui. Ecco qui. Andiamo per un altro oggetto in argento 800. Parliamo dell'Arge numero 5. Guardate che struttura. Ora vi do tutte le dimensioni. è un termos, un termos tutto in argento per mantenere tutte le bevande che voi volete inserire all'interno calde. Vedete che ha il suo, diciamo, il suo tappo, il suo sigillo. Tutto con questo, guardate, con tutta la lavorazione e poi si va a chiudere anche la parte sopra. Guardate che meraviglia. Un oggetto comunque antico. Un chilo di peso di argento. Oggetto antico in argento 800. Guardate che manico. Adesso vi vado a dare tutte le dimensioni. Abbiamo un'altezza di 20 centimetri e abbiamo una larghezza comprensiva del manico di 19 centimetri. L'apertura è di 10 centimetri il diametro. La richiesta, amiche, attenzione, questo è un oggetto antico, è di 790 euro. 750 euro. Davvero particolare. Guardate anche il manico, tutto lavorato, anche nella parte superiore. Adesso Max vi fa un primo piano su tutta la bellezza di questo oggetto. un termos per tenere calde le bevande che volete mettere all'interno, il tè oppure il caffè, quello che preferite. Un chilo di argento. Questo è un oggetto antico, oltretutto non facile da trovare, amiche. Assolutamente non facile da trovare. Potete metterlo tranquillamente all'interno di una bella credenza e vi dà un valore in più. Large 4, non chiamate più perché è finito, ne avevamo uno e è terminato. Alla prima telefonata, attenzione, oggetto antico di classe, ma soprattutto introvabile perché sono oggetti che non si trovano. Argento 800, un chilo di argento, la richiesta è, attenzione, vi faccio un ulteriore sconto anche se è antico. 600 euro, via. 600 euro alla prima telefonata. Non capisco le telefonate che non si riescono a ricevere. Vedete questa foglia sull'impugnatura del manico, ripeto, e poi avete dentro la chiusura, quella che mantiene il calore all'interno. Solamente per averlo, perché è una cosa che non si trova, va confermato al volo. Voglio sentire una telefonata. Large 5, parliamo di un chilo di argento a prezzo di fusione. Amiche, sono oggetti che se si vanno ad acquistare, in gioielleria, un oggetto come questo, tenendo in considerazione che sono oggetti che sono introvabili, saremo intorno ai 1000-1500 euro. Bellissimo. Facciamo così, voglio esagerare, voglio iniziare questa domenica in vostra compagnia, davvero, e vi voglio numerose. Quindi vi voglio incentivare a fare un acquisto in più. So che a Natale abbiamo tanti pensieri da fare, quindi vogliamo anche un pochino risparmiare. 500 euro alla prima telefonata. 500 euro. 500 euro amiche, va confermata al volo. Non sento la telefonata. Facciamo così, lo ritiro. Se non va a 500 aumenteremo il prezzo. Ritiriamo. Grazie Max. Ritiriamo e adesso vi mostro il servizio di cui vi parlavo prima. Parliamo di un servizio di posate, parliamo di 77 pezzi. Adesso io ovviamente non vi faccio vedere tutto, vi faccio vedere le principali posate. Abbiamo ovviamente il da dolce, da portata e poi abbiamo i 77 pezzi. Argento 800, guardate che servizio di posate. Un bel primo piano su tutto quello che è questa meravigliosa opportunità, una lavorazione lineare. Siamo a 5 chili e 500 grammi di argento. Guardiamo, scusami un secondo Max, che giro, perché l'avevo girato al contrario. Guardiamo le funzionature. Dovrebbe essere l'argento numero 6 Max, in sequenza. 77 pezzi, 5 chili e 500 grammi. Qui avete le posate principali, vedete il cucchiaino e la forchettina e il coltellino da dolce. Poi avete, va bene, le tre posate di portata e poi avete i pezzi che servono per completare un servizio. 5 chili e 500 grammi. Qui amiche, è un servizio nuovo, eh? Nuovo. È nuovo. Attenzione amiche al prezzo, perché un servizio come questo, in gioielleria, saremo intorno ai 5.000 euro. 77 pezzi per 5 chili e 500 grammi. Vedete che è nuovo. Nuovo. 2.990 euro. 2.990 euro. 5 chili e mezzo, argento 800, guardate che meraviglia. Qui abbiamo le posate anche da insalata, vedete il cucchiaio e la forchetta. Abbiamo il mestolo, abbiamo il cucchiaio. Ovviamente sono 12 pezzi per più i 5 del, diciamo, del... Sì, 5 più grandi che sono a completo di un servizio, ovviamente. Il mestolo, il cucchiaio grande, il forchettone. Poi abbiamo cucchiaio e forchetta da insalata e poi abbiamo ovviamente il servizio. Abbiamo 12 pezzi per quanto riguarda cucchiaino, forchetta e coltello da dolce. Coltello e forchetta e cucchiaio, ovviamente, da tavola, da prima e seconda portata. 2.990. Voglio una conferma, voglio una cliente, voglio un maschietto che ami le belle cose. Qui si fa un regalo di Natale davvero incredibile. Qui amiche con 5 chili, scusate, 500 grammi di argento a questo prezzo, si regala veramente il massimo. Chi ama l'argento, chi conosce le cose belle, sa che cosa sta acquistando. Tutti punzonati questi oggetti. Tutti oggetti di grande qualità, di grande eleganza, di grande raffinatezza. Argento 800, 77 pezzi, 5 chili e 500 grammi. Un servizio nuovo, un oggetto davvero incredibile. Faccio uno sconto, l'unico sconto, l'ultimo prezzo. Attenzione. 2.490 euro. Ultimo prezzo, amiche. Non chiedetemi di più perché non posso farlo, perché, ripeto, l'abbiamo ritirato da una gioielleria che ha chiuso. Sono pezzi nuovi e vanno confermati al volo. Non avete possibilità di sbagliare. Quando si acquista l'argento come quando si acquista l'oro a questo prezzo, non si sbaglia, amiche. Non si sbaglia. Se un maschietto vuole regalare per la sua casa, per la sua famiglia, un oggetto di pregio, qui all'occasione giusta, 2.490 euro, scontatissimo. Non chiedetemi ulteriori sconti perché qui non posso proprio farli. A 2.990 era già, credetemi, un ottimo prezzo. A 2.990 era già un ottimo prezzo. Ma 2.490, beh, è davvero regalato. Mi avvicini quelle cosine lì? Anche quello grande. Non sento la conferma su questo. Claudio non mi dice niente. Se oggi l'argento non vi interessa, ripeto, sono cosine che non si trovano a questo prezzo, eh. Bisogna essere veloci a confermare. Poi andiamo a rivedere le cosine, facciamo un altro giro sull'argento. Claudio vuole fare un saluto a un caro amico che ha incontrato ieri, un carissimo amico che oltretutto gli ha fatto quasi da scorta. Una raccomandazione per l'ingresso in una delle discoteche VIP di Milano. Saluta con tanto affetto il fioraio di Via Pier della Francesca. Se ci sta guardando... Ma perché Claudio è multietnico. 2.490 amiche, non perdiamo questa opportunità. Non perdiamo queste opportunità amiche. Voglio sentire la conferma. Vedo Giuliano e Luca che stanno rispondendo a due delle nostre clienti. Vediamo se si conferma questo oggetto. Vediamo quale raffinato e cliente di gusto porta a casa questo gioiello. Non ci credo amiche, non posso credere che nessuno conferma questo oggetto. Allora vuol dire che non vi conosco. Allora vuol dire che i miei clienti non sono lì. Non fatemi arrabbiare amiche, perché sono gioielli per la casa. Ripeto, arrivano gli incaricati. Toccate con mano gli oggetti e potete valutare se quello che vi sto dicendo corrisponde a realtà. Ritiriamo, grazie Max. È un peccato perché è un oggetto davvero davvero unico. Andiamo avanti con l'argent numero 7. Guardate che meraviglia. Un secchiello molto molto carino. Guardate che amore. 450 grammi di argento con tutta una lavorazione molto particolare. Vedete che oggetto, un oggetto come nuovo. Con un bel piano d'appoggio. Guardate che meraviglia. Tutte le punzonature sono qui. Guardate che non dico una bugia. Sono cose ritirate da gioiellerie che hanno magari chiuso. Argento 800. Oltretutto questo è un oggetto firmato. Oggetto firmato. Vediamo un attimino. Scusami Max che controllo. Greggio. Firmato greggio. La richiesta amiche è di 400 euro. È un amore. È un amore. 13 centimetri il diametro. 14 centimetri l'altezza. E si allarga con i manici per 16 centimetri. 400 euro. Manici lavorati, vedete? Con tutta la bordatura, tutta lavorata, tutta disegnata. Alla prima telefonata, attenzione, 230 euro si conferma. 230 euro. 230 euro amiche, 450 grammi di argento nuovo a prezzo di fusione. Credo che sia davvero un peccato non confermarlo. Perché vorrei ben dire, è carino, elegante, è raffinato e poi comunque è argento. Arreda la casa, dà un tocco di classe in più. Davvero rende uniche tutto il vostro arredamento. Sia moderno che antico, senza nessun tipo di differenza. 230 euro. Parliamo di 450 grammi. Vieni in diretta. Amiche, c'è Claudiano che sta facendo il modello. sta indossando un colbacco col visone. È uno spettacolo ma non vuole venire in diretta a farsi vedere. Fatti un po' vedere dalle clienti, Cla. Fatti ammirare in tutto il tuo splendore. Come alla mattina quando arrivi, quando fai toffì. Togliti l'asciugamano, quello bianco lì sul divano. Togliti l'asciugamano, toffì. E poi arrivi. Togliti l'asciugamano. Togliti l'asciugamano. No, perché Claudio stamattina si è presentato. Ieri ha pernotato a settimo milanese. Ha pernotato con noi perché la situazione era drammatica. E stamattina è uscito dalla doccia con l'asciugamano. Era così, così. È già bene che è uscito con l'asciugamano. Giovanna dice, va già bene che è uscito con l'asciugamano. Va bene amiche, non parliamo di argenti perché abbiamo qui, altrimenti dobbiamo cambiare la trasmissione, la dinamica della trasmissione. Ritiriamo Arge 7, 450 grammi, 230 euro. Amiche, questo argento va tutto confermato. Non avete scuse perché sono gioielli davvero particolari. Per la casa, molto carini e molto eleganti, ma soprattutto amiche, non si acquista argento a 500 euro al chilo. Sono prezzi di fusione. Se noi andiamo a fondere, questi soldi li prendiamo. Ma dato che sono oggetti belli, eleganti, che sappiamo che magari ai nostri clienti fa piacere acquistare, soprattutto nel periodo natalizio. Allora cerchiamo di mandarli prima a voi. Poi se non vi piacciono, senza problemi, li andiamo a fondere. Claudio, ci sei? Sei qua? Sei presente? Non ho il numero, il riferimento di questo. No, non hai capito. Non ho il peso, la descrizione. Hai capito? Saranno due mica insieme, no? Benissimo, ora facciamo tutto, non c'è problema. Arge numero 8, una zuccheriera come nuova, bellissima. Guardate che meraviglia. Con il suo coperchio, col suo manico, vedete, molto particolare. È tutto lavorato. Ha una zuccheriera che porta una lavorazione anche sul centrale. e andiamo a vedere le misure. 17 centimetri di altezza per 18 centimetri di larghezza comprensiva dei manici con un diametro di 11 centimetri. 150 grammi il peso. 250 grammi, Max, scusami. Ho sentito qui. Va bene? Quanto è? La richiesta, amiche, è di 130 euro. Parliamo di una zuccheriera come nuova, molto molto carina. Eccola qui. Ripeto, 17 centimetri per 18 centimetri per 11 centimetri è il diametro. Argento 800, parliamo comunque di prezzi davvero unici, prezzi di fusione. Vanno confermate al volo a questo prezzo. Vediamo la Lidia cosa sta confermando e ritiriamo. Andiamo avanti. Ah, cioè, dimmi. Sì, sì. Aspettiamo, Max, un secondo che va di là e andiamo avanti. Li ritiriamo. Ecco qui. L'andiamo a sistemare qui. Poi andiamo a vedere un altro oggetto molto importante. Questo è argento inglese. Attenzione, amiche, perché è un centrotavola di enormi dimensioni. Siamo a 50 centimetri di larghezza comprensiva di manici. Abbiamo un'altezza di esattamente 21 centimetri e abbiamo una profondità di 13 centimetri. Qui parliamo di argento inglese. Parliamo di... Questo qui ve lo lasciamo, attenzione amiche, a 4,90 euro. Molto, molto carino. Guardate tutta la lavorazione. Vedete che ha i piedi in appoggio tutti lavorati. Adesso vi do anche le misure dei piedini. 6 centimetri all'altezza dei piedini che sorreggono questa meravigliosa, deliziosa struttura. Alla prima telefonata, attenzione, 290 euro si conferma. 290 euro. È un prezzo davvero molto interessante. Parliamo di argento inglese. Guardate anche i manici. Guardate il particolare. La particolare lavorazione dei manici. Un oggetto molto, molto bello. A 2,90 amiche, vi garantisco che acquistate un oggetto. Come tutti questi oggetti, sono molto belli e molto eleganti e vanno confermati al volo. Perché non è possibile assolutamente comprare delle cosine di questa grazia, di questa eleganza, ad un prezzo così ridicolo. E ritiro, grazie. Ritiriamo e andiamo a vedere l'ultimo oggetto in argento per oggi. È l'arge numero 9. 150 grammi di argento. Guardate che meraviglia. Anche questo è tutto interamente lavorato. Un bicchierino in argento. Un bicchierino in argento. Un bicchierino in argento. 100, guardate questo bicchierino, con questi due cigni che vanno a sorreggere, proprio il bicchiere. Molto, molto elegante. 150 grammi di argento. La richiesta, amiche, è di solamente 120 euro. Guardate che lavorazione. Guardate la lavorazione. 120 euro, 150 grammi, è l'arge numero 10. Anche il manico, vedete, che è tutto, tutto lavorato. E poi avete questi due cigni sulla parte sotto che vanno a sorreggere la struttura. Davvero, davvero molto carino. Alla prima telefonata, amiche, attenzione, 80 euro e si conferma. Ritiro, grazie. Allora, volevano rivedere il servizio. E amiche, giustamente, perché chi acquista un servizio come questo porta a casa, oltre che un oggetto bellissimo, un oggetto di grande, grandissima raffinatezza. Parliamo di 5 chili e 500 grammi di argento. 5 chili e 500 grammi. Sono 77 pezzi di argento 800. Avete la forchetta, il cucchiaino e il coltellino da dolce. Avete ovviamente le posate da prima e seconda portata. E avete le due posate da insalata. E avete i tre pezzi più grandi. 77 pezzi, 5 chili e 500 grammi per la richiesta dal centralino. Acquista un oggetto unico. Ripeto, io vi ho mostrato solo la parte, cioè la parte, cioè per farvi vedere tutto il servizio abbinato, ovviamente sono 77 pezzi. Se poi volete rivedere qualcosina sull'argento, perché dopo i due pezzi che vi vado a presentare ora andremo avanti con la diretta, non fate altro che domandarlo al nostro centralino e sarete accontentati. Vedete che qui avete tutti i coltelli, ripeto come nuovi, i cucchiaini. Tutto nuovo amiche, tutto nuovo. Questo è un servizio nuovo che abbiamo ritirato da una gioielleria e abbiamo voluto proporvelo subito in questa diretta della domenica. E qui avete le posate, eccole qui, guardate che oggetti, guardate che meraviglia. 2.490 euro amiche, questo è un servizio che ci volevano almeno 5.000, 6.000 euro. Bellissimo, ripeto, 77 pezzi in argento 800, più ovviamente il mestolo, il forchettone, il cucchiaio grande e le due posate da insalata. E' un'opportunità da non perdere, vedete che sono tutte le cosine fasciate nelle loro pellicole proprio per garantirne. Bellissimo, 2.490, 5.5 kg, 77 pezzi amiche, voglio subito una conferma. Voglio sentire subito la conferma. Amiche di Canale Italia 84, siate veloci a confermare questo meraviglioso oggetto. Non posso credere che sotto il periodo natalizia, amiche, nessuno si voglia fare un regalo come questo. Guardate la qualità, una linea molto lineare che secondo me è abbinata ad una tavola da un tocco davvero di classe in più. Perché secondo me le linee così lineari, così pulite, sono un classico che va sempre. Attenzione amiche, voglio fare una prova per vedere se abbiamo qualche cliente interessato in diretta perché non voglio crederci. Non voglio crederci, faccio l'ultima prova per una cliente, per una telefonata, dopodiché lo ritiro e non lo vado più a riproporre. 1.990 euro alla prima telefonata. Ebbè, amiche, sono scioccati anche i nostri ragazzi al centralino. Non so se riuscite a vedere, probabilmente no, la qualità, la bellezza di questo meraviglioso servizio di posate. 77 pezzi, argento 800 in super liquidazione a 1.990. Voglio una conferma perché, amiche, torna al prezzo di partenza. Se non lo confermiamo oggi, lo rimettiamo al prezzo di uscita di 2.990. E ritiro, grazie. Amiche, a questi prezzi non si può, rimaniamo un po' così perché sono prezzi che, cioè 1.990 euro, un servizio come questo, vedete voi. E volevate rivedere anche...